Parliamo di sanità, attivare strutture sociosanitarie alternative e gli ospedali utilizzando i fondi FESR. Questa è la nuova mission dell'AS di Bari, come ha spiegato il direttore generale Domenico Collasanto. Un nuovo modello organizzativo che dovrà fare a meno in termini numerici di quanto personale? Dovrà fare a meno di tutto quel personale che è andato in quescenza e che con il blocco del turnover non si può sostituire. E questo ha un peso notevole perché noi non abbiamo degli standard, non solo Bari, ma l'intero sistema Puglia purtroppo non ha uno standard di personale che garantisce anche la sofferenza del pensionamento. I nostri purtroppo sono requisiti minimi strutturali, sia sulla dirigenza medica che sul comparto, sugli infermieri o sui tecnici di radiologia per esempio. o di anatomia patologica. Quindi una volta che ci è impedito di sostituire le persone che vanno in pensione entriamo oggettivamente in crisi. Per quanto riguarda invece i lavori in corso, quali sono i bandi di gara che stanno per essere pubblicizzati per l'ammodernamento delle strutture sanitarie? Attivare in particolare gli interventi strutturali di ammodernamento del di Venere e del San Paolo, che sono gli ospedali della città a capoluogo. E l'altra parte io guardo sempre al territorio. Con i fondi FESR noi saremo in grado di attivare per esempio diversi distretti tipo Conversano, strutture territoriali, ripeto, alternative a quelle ospedaliere. Cambiamo argomento 8.000 bambini in età d'asilo nido, ma solo 600 posti garantiti dall'amministrazione tra strutture comunali e convenzionate. E con i tagli la situazione rischia di peggiorare. Sentiamo. Sono 8.061 i bambini nati e residenti a Bari da 0 a 3 anni, che da metà settembre potrebbero frequentare gli asili nido comunali e le strutture private convenzionate. Ma i posti disponibili sono nettamente inferiori al fabbisogno. Solo 342 i piccoli fortunati nella graduatoria definitiva, che permette di accedere alle 6 strutture comunali, a fronte delle oltre 570 richieste. E allora da Palazzo di Città si cerca di correre ai ripari, dirottando 205.000 euro ai servizi per la prima infanzia, all'interno della ridefinizione anticipata del piano sociale di zona. Entro il 14 settembre, dunque, sarà possibile presentare domanda per l'assegnazione di 240 buoni da 718 euro ciascuno, per coprire le rette di asili nido privati convenzionati. Il contributo è destinato alle famiglie con reddito massimo di 30.000 euro Isee, che potranno ottenere 80 euro al mese per tutto l'anno scolastico, iscrivendo i propri figli alle strutture selezionate dal comune, la cui retta mensile però non superi i 300 euro. L'amministrazione comunale sovvenziona così circa 600 posti complessivi, ancora troppo pochi e la situazione rischia di peggiorare con i tagli all'Uelfar che si prospettano per il prossimo anno, come spiega Fabio Losito, assessore alle politiche educative. Con questo provvedimento stiamo andando incontro anche a coloro che non hanno avuto accesso agli asili nido comunali, strutture che hanno visto un incremento dei posti del 30% nell'ultimo triennio e quindi nel quadro delle politiche del potenziamento di questi servizi noi speriamo di poter proseguire. Certo, se le previsioni rimarranno quelle previste nel decreto del 13 agosto sarà davvero difficile immaginare di continuare a implementare questo servizio perché appunto ci troveremo nelle condizioni di dover capire dove tagliare i servizi alla cittadinanza. Classi Ingersson, indimenticato idolo della tifoseria barese, continua a lottare contro il cancro ma il peggio sembra essere finalmente alle spalle. La storia dell'ex campione svedese è in questo servizio. Unino alla vita, un sorriso sempre acceso che è un atto di sfida di una malattia infida che continua a tenerlo sulla corda e prova a fiaccarne in vano la voglia di continuare a combattere. La lotta al mieloma dello svedese Klas Ingersson, indimenticato ex centrocampista di Bari, Bologna e Lecce, non si arresta. Raggiunto in Svezia dal giornalista della Gazzetta dello Sport Giuseppe Calvi, Klas racconta la sua storia. Una storia cominciata nel 2009, prima i dolori alla schiena, quindi il duro risponso delle analisi in ospedale. Cancro. Nel gennaio 2010 il peggio sembra essere alle spalle, ma il male torna alla carica trovando in Ingersson un fiero avversario. Come in campo, nella vita lo svedese non si arrende, nonostante il bombardamento costante di farmaci continua a condurre una vita quasi normale. Ogni giorno con l'aiuto di moglie e padre manda avanti una struttura di 800 ettari, un paradiso nel bosco utilizzato anche da foresteria delle squadre in periodi di preparazione. Tre volte a settimana percorre 150 chilometri in auto per andare ad allenare i ragazzini dell'Elsborg. Una storia di vita a cui ora manca solo il lieto fine. Forza Klas, forza Gigante Buono. In chiusura ricordiamo insieme la figura di Franco Granata che si è spento nella notte. Il papà di Bari in Corsa, amico dello sport e di Telebari, se n'è andato lasciando dietro di sé un vuoto incolmabile. Da sempre impegnato nel sociale, uomo dalle mille risorse, Franco ha fatto correre una città intera con le sue Bari in Corsa, Bari in Corsa Rosa, e correndo con Babbo Natale, appuntamenti divenuti nel tempo, gradite consuetudini del cartellone sportivo barese, sempre con un occhio di riguardo alle iniziative di beneficenza alla famiglia Granata, il cordoglio della redazione e della direzione di Telebari e Radio Bari. In chiusura le previsioni del tempo per le prossime ore, cielo sereno, temperature comprese tra 22 e 32 gradi, venti moderati, mari quasi calmi. Vi ricordo gli indirizzi internet www.telebari.it e radiobari.net. Il telegiornale termina qui. Grazie per averci seguito. Appuntamento più tardi. Grazie per averci seguito.